Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta al tonno risottata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta corta, salsa di pomodoro, tonno sott'olio sgocciolato, latte, olio evo, aglio, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere la salsa di pomodoro, il tonno e il latte. ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta. Mescolare con la spadola. e cuocere con il cestello al posto del misurino per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La pasta è pronta. Servire spolverizzando con il prezzemolo dritato. Pasta al tonno risottata. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.